Buonasera Presidente e benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. Allora, intanto la prima domanda che le faccio è, insomma, oggi c'è il segretario generale delle Nazioni Unite a Kiev e piombano i missili in contemporanea con la conferenza stampa Guterres e Zelensky, insomma, in che tipo di guerra ci troviamo dopo un mese? Sì, quest'ultima notizia francamente desta ancora più angoscia e preoccupazione di quelle che già abbiamo, perché chiaramente ci dà la prospettiva di un conflitto militare che è durissimo e anche di fronte a un passaggio come quello di Guterres a Kiev non si arresta assolutamente, anzi. E questo ci fa preoccupare ancora di più, assolutamente. Senta, noi abbiamo avuto, bisogna capire come reagire, abbiamo avuto due decreti per inviare armi italiane in Ucraina. Adesso si attende un terzo decreto che prevederebbe cingolati e armi pesanti. Lei è contrario? Guardi, noi abbiamo avuto un Consiglio nazionale nel corso del quale all'unanimità abbiamo ribadito quella che è la nostra posizione molto chiara sin dall'inizio. Condanna ferma risoluta della Russia, assolutamente appoggio all'Ucraina, perché l'aggressione militare non si può giustificare in alcun modo, né dal punto di vista storico, culturale, è contrario a qualsiasi principio del diritto internazionale. Appoggio quindi all'Ucraina, però è chiaro che questo nostro appoggio, tra l'altro è un appoggio che si è esteso anche, per noi è una decisione molto sofferta, agli aiuti militari, questo lo voglio chiarire. anche aiuti militari, perché noi per quanto sia diciamo uno scenario molto complicato per i nostri principi e valori ci rendiamo conto che se una popolazione deve difendere le proprie terre, le proprie famiglie, ha bisogno delle armi, deve difendersi di fronte a una tale posizione di asimmetria e non ci si può girare dall'altra parte mentre vengono aggrediti. Assolutamente no, però attenzione, questo è anche il momento, quanti sono 63-64 giorni dall'inizio del conflitto, in cui noi vogliamo che l'Italia, di cui anche è giusto che il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa vengano in Parlamento e ci sia un chiarimento sull'indirizzo politico, l'indirizzo politico che l'Italia porta, non solo condivide al proprio interno perché siamo in una democrazia parlamentare, ma anche nei tavoli internazionali dell'Unione Europea, dell'Unione delle forze euroatlantiche. Lei intende dire noi dando delle armi come intendiamo questa guerra? Come una guerra di difesa o come una guerra di offesa? Perché qui c'è una distinzione tra armi difensive e armi offensive che mi pare che voi vogliate fare, ma mi spiega qual è la differenza tra un'arma difensiva e un'arma offensiva? Allora, è evidente che al di là della tipologia delle armi, degli armamenti, è ancora più importante la funzione, la prospettiva, l'uso che se ne fa, è ovvio. Quindi ci rendiamo perfettamente conto che distinzioni rigide, astratte, rigorose non tengono, però il tema è noi, come Movimento 5 Stelle, postiamo un nostro contributo e vogliamo che l'Italia si muova per ribadire e far affermare nei contesti internazionali, condividendo anche con Zelensky, col Premier Zelensky, che non vogliamo un escalation militare, quindi sempre più armamenti pesanti. Le faccio un esempio molto concreto. Oggi Putin sta occupando mano a mano sempre spazi più larghi del Donbass. È chiaro che l'idea di Zelensky è di riconquistare quei territori che sono stati strappati a lui, tipo Mariupol. In quel caso serve una controffensiva militare che vada a riprendere i terreni occupati. Per fare le controffensive servono armi pesanti e armi che non sono solo contraere, ma sono cingolati, sono mezzi di assalto. Il Movimento 5 Stelle questo tipo di controffensiva con le armi italiane lo vede lecito? Possibile? Non si difendono le proprie terre a mani nude. Quindi è chiaro che in questo momento Zelensky e gli ucraini devono difendere le proprie terre. Ma io le faccio e le pongo un quesito. A me sembra che si stia andando verso un'escalation militare dove da un lato ci sono evidentemente forze anche politiche e militari convinte di andare a questa escalation e anzi viene perseguita consapevolmente e semmai ci si pone l'obiettivo di un cambio di regime, che è un obiettivo legittimo. Però attenzione, qual è il nostro obiettivo? E questo o difendere il diritto dell'Ucraina alla sovranità territoriale, all'integrità territoriale, all'autodeterminazione e quindi ai valori di recuperazione e libertà. È chiaro che a me interessa più che la tipologia di arma, che come lei dice giustamente può essere poi a secondo degli utilizzi anche funzionalmente destinata a scopi diversi. A me interessa che il tutto e i nostri aiuti, condividendo l'indirizzo politico con Sereschi, sia per difendere la propria integrità, non per portare a oltranza un'escalation militare. Noi vogliamo un'escalation diplomatica. La mia sensazione, posso darle un giudizio, è che come più volte succede, il Movimento 5 Stelle si trovi un po' imprigionato, diciamo, tra due opzioni diverse. Nel senso che voi avete da una parte quelli che sono contro il riarmo in questo paese, cioè i pacifisti, quelli che pensano che il riarmo sia automaticamente un fattore di escalation. E poi ci sono quelli che dicono che se dai le armi, dai le armi. Non è che ti puoi mettere a dire sì le armi per questo sì e per questo no. Lei, ho la sensazione che si trovi un po' nel mezzo tra queste opzioni. Anche perché ha delle spinte all'interno del suo movimento che sono, diciamo, vanno su due direzioni magari diverse, no? E lei deve fare una mediazione. No, 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 assolutamente. È difficile questa mediazione, Presidente? No, la rispigo perché le dico, abbiamo nel Consiglio nazionale sviscerato, tu dell'ultimo, ma sono tre Consigli nazionali che confermiamo la stessa posizione. Non l'abbiamo mai cambiata. Questa posizione, abbiamo un comunicato stampa molto articolato che riassume le posizioni del Consiglio nazionale. Cioè lei dice che non bisogna mirare al cambio di regime a Mosca, sostanzialmente. Quindi bisogna non prolungare la guerra oltre il lecito. Allora, se quello è l'obiettivo, se quello è l'obiettivo, mi chiedo, allora quindi siamo disponibili a un escalation militare, a una terza guerra mondiale, a una guerra che potrebbe durare anni e anni. Io credo che... Lei lo sa, Biden vuole friggere Putin in quel pantano, no? E in quel Vietnam vuole trasformare l'Ucraina in un Vietnam in modo da friggere, come si dice, no? Putin lentamente, a fuoco lento, cuocerlo a fuoco lento. Questo significano anni probabilmente di conflitto. Guardi, io non ho parlato con Biden, quindi non so, lei sta interpretando Biden, c'è stata qualche dichiarazione, la possiamo tutti interpretare. Io voglio che discutere con il governo italiano in Parlamento, voglio dare, anzi le dico di più, attenzione, le ricordo che quando c'è stata l'aggressione militare, io ho chiamato il Premier Draghi e gli ho anticipato che avrei chiamato tutti i leader politici di tutte le forze, ho chiamato anche la leader merone delle forze di opposizione, ho cercato per avere l'unitarietà, per dare pieno mandato, perché è importante che il Premier italiano abbia pieno mandato. Adesso però sono nella condizione di chiedere al Premier Draghi di venire in Parlamento e vorrei dare un contributo perché prevalga un indirizzo politico. L'Italia, nel contesto europeo delle forze NATO, G7 e G20, deve assolutamente indirizzare la sua soluzione politica. L'unica praticabile e l'unica plausibile. Nel momento in cui noi armiamo gli ucraini siamo un po' fuori dalla soluzione negoziale, no? Tant'è vero che oggi i negoziatori sono quelli che non danno le armi, oggi negozia le Nazioni Unite, negoziano magari i cinesi sotto banco, i turchi, gli israeliani, ma l'Europa che sta dando armi, 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 come fa a negoziare? Guardi, il negoziato, una soluzione negoziata, io sono convinto che alla fine converrà più a Putin, innanzitutto a Putin prima che a noi, conviene a tutti. Però il problema guardi è questo, che se questo è l'obiettivo politico e io vorrei che fosse condiviso innanzitutto al nostro interno e poi fosse condiviso a livello internazionale, dove l'Italia deve portare questo obiettivo, se fosse condiviso, guardi che gli sforzi diplomatici non si fanno soltanto la domenica, non si fa uno sforzo, un attantum e poi termina lì. La soluzione politica va perseguita, un altro atteggiamento che a me preoccupa molto, uno è quello dell'escalecio militare, l'altro è altrettanto pernicioso, quello della rassegnazione a una guerra che è infinita, sempre di più vasti proporzioni di dimensioni. Però mi faccia capire Presidente, se si va in Parlamento e Draghi spiega, o il Ministro della Difesa spiegano quali armamenti, che tipo di armamenti intendiamo mandare, a quel punto voi dovrete dare un vostro sì o un vostro no. Ma noi daremo un nostro sì o un nostro no, ci misureremo su tutto. Cioè non è che direte no ai carri armati pesanti, no? Guardi, il problema non è il carri armato o non carri armato, il problema innanzitutto è non, per quanto riguarda l'Italia, abbracciare la prospettiva di armamenti sempre più pesanti, ma ancora più importante è l'indirizzo politico. Eh, ma l'indirizzo politico... Come si muoverà l'Italia? Quale obiettivo cercherà? Noi dobbiamo parlare con i nostri alleati. Pensa che il governo Draghi sia troppo schiacciato sugli Stati Uniti in questo momento? Non mi permetto di dirlo, però vorrei, mi sentirei più rincuorato come leader di una comunità politica e che è un leader che comunque ha una responsabilità anche di fronte degli elettori, che il nostro Premier venga a chiarire con i suoi ministri che questo è l'obiettivo che vorranno sempre e si impegneranno a perseguire in tutti i contesti internazionali. Parliamoci chiaro, oggi per la prima volta Putin, negli giorni scorsi parlando con il segretario generale dell'ONU, ha messo sul piatto quello che per lui è l'ipotetico bottino di guerra, cioè il Donbass e la Crimea come assodati, diciamo. Questo però vorrebbe dire per Zelensky cedere un terzo del territorio nazionale, grosso modo, dopo un'aggressione. Allora, siccome l'oggetto del negoziato, neanche troppo nascosto, ormai è questo come minimo per Putin, se non andrà oltre, sa, quando lei dice bisogna negoziare, allora bisogna anche mettersi nell'ottica di poter accettare questo tipo di negoziato in cui un pezzo dell'Ucraina va a Putin, perché se questo è inaccettabile, Zelensky dirà sempre no, io rivolgo indietro i miei territori, il negoziato va poco lontano. Guardi, i negoziati quando iniziano, le condizioni iniziali non sono mai quelle finali, quindi è ovvio che uno parte con delle richieste. Il negoziato, lo sforzo diplomatico, deve essere continuo, costante, perché sa perché? Perché i valori in gioco sono, da un lato senza altro, valori fondamentali della democrazia, l'integrità territoriale, noi non possiamo cedere a una sopraffazione, però dobbiamo anche tener conto che ogni giorno che passa, ogni mese che passa aumenta la carneficina, aumenta la distruzione di città e attenzione, poi fra un po', lo stiamo già scoprendo, diventerà sempre più pesante la situazione di difficoltà economica delle nostre famiglie e delle nostre persone. Adesso arriviamo alla questione tra l'altro del gas, però prima le voglio fare un'altra domanda, le faccio vedere il sondaggio che abbiamo fatto apposta da Progeri Index oggi, in cui la domanda è molto semplice, abbiamo chiesto agli italiani, lei è favorevole o contrario all'invio di armi in Ucraina? Contrario 43,6%, favorevole 36,5%, non sa 19,9%. Allora la cosa che mi colpisce è che quel 43,6% sostanzialmente non ha un partito in Parlamento, un partito che si sia schierato chiaramente. Allora la domanda, maliziosa da parte mia, non è che lei si sta accorgendo di questo 43,6% e in qualche maniera sta provando a intercettare il consenso di quei cittadini lì? No, allora guardi, se dovessi seguire i sondaggi, quei sondaggi più o meno erano stati anticipati, c'è la popolazione, cosa viene? Che per la gran parte è contraria agli aiuti militari. Noi abbiamo già, dal primo Consiglio nazionale che abbiamo fatto, preso una decisione sofferta di sostenere anche gli aiuti militari e su questo io non inteteggio e le dirò di più per coerenza e chiarezza, lo dico ai telespettatori, perché possono non condividere la nostra posizione. Se noi abbiamo detto con sofferenza, ritenendo un male necessario minore, non volgendo lo sguardo, la testa dall'altra parte, che dobbiamo aiutare anche sul piano militare l'Ucraina, perché la simmetria è tale che altrimenti verrebbero sopraffatti e distrutti, noi diciamo anche che questi aiuti non possono essere temporalmente scadenzati, perché non puoi aiutarli per due settimane, per tre settimane, quattro settimane, però altra cosa, quindi dobbiamo continuare a sostenere, però altra cosa è favorire l'escalation militare. L'escalation militare significa il rischio di una guerra in proporzioni. Ma come si favorisce? Qual è un segnale di favorire l'escalation militare? È semplice, nei consensi internazionali dove si decide, Unione Europea, Nato, devono decidere qual è l'obiettivo politico da raggiungere, anche con Zelensky, perché la guerra... Bisogna parlare con Zelensky, e l'escalation la decidano, con tutto il rispetto, i generali o i ministri della difesa, dobbiamo avere un indirizzo politico. Alla sensazione che ci sia un'eccessiva intransigenza rispetto a qualunque possibilità negoziale da parte di Zelensky, ha questa sensazione lei? Ma guardi, dobbiamo... ripeto, io non ho parlato con Zelensky, ovviamente, quindi io non le saprei dire, ovviamente io sto alle dichiarazioni che vengono fatte, ma come sempre accade, ci sono delle punte estreme. Ci sono forze politiche, forse anche paesi, che puntano e mettono in conto anche un conflitto di lunghissima durata. Gli Stati Uniti? Ma lo dice lei, lo dice lei. Lo dice lei. Lo dice anche lei. Ma guardi, io non mi azzardo perché non avendo parlato di... Però la sentite, la vede lei ormai... Le posso dire anche una cosa, la vede la strategia, no? Guardi, io ci sono state, ho avuto delle responsabilità di governo, cosa succede? Che intorno a un tavolo poi ci sono anche varie posizioni, c'è le posizioni di quelli che sono estremisti per un escalicio militare, un cambio di regime, una guerra a oltranza, terza guerra mondiale, ci sono altri che invece hanno una prospettiva più ragionevole, più limitata, più contenuta e più realistica. Cioè, spesso queste posizioni, anche all'interno della stessa amministrazione, cambiano nel corso del tempo. Allora... Io dico l'Italia deve avere un indirizzo politico condiviso in Parlamento e lo deve portare e convincere tutti gli alleati. Allora, dobbiamo correre un pochino, Presidente, perché abbiamo pochi minuti, le faccio vedere e corriamo un po'. Allora, questo signore qui è ancora nel suo partito, avete pronunciato l'espulsione, però non si è capita ancora. Questo è Vito Pertorcelli, Presidente della Commissione Esteri del Senato. Ci facciamo raccontare anche da Petro, se no? Petrocelli, si ferma un attimo. Mi chiamo Vito Petrocelli. Però, diciamo, i tuoi colleghi la chiamano così. Si rimetterà da Presidente della Commissione Esteri? Non la mette in imbarazzo? No, non mi mette in imbarazzo avere un atteggiamento dialogante. Verrà il giorno in cui questa guerra finirà e sarà necessario dialogare con le due parti. L'Italia non si deve sentire minacciata dalla Russia. Quello che è contesto è far entrare il nostro paese, per scelta del governo, come co-belligerante in una guerra. E stiamo entrati come co-belligeranti noi? Finché forniamo armi a un paese in guerra rispetto a un altro, sì. Il mio movimento, che aveva un programma politico ben preciso anche in politica estera, oggi invece si mette nella condizione di sostanzialmente rinnegare anche un percorso legislativo fatto fino a neanche un anno fa. Allora, Petrocelli, lo dico per il pubblico che magari non è informatissimo su questo, fa il giorno della liberazione un tweet con la Z, nella liberazione della Z dell'armata russa, simbolo armata russa in Ucraina. Lei ha pronunciato l'espulsione, credo che ci sia in corso l'espulsione, ma questo ce lo ritroviamo Presidente della Commissione del Senato. C'è un ruolo importantissimo a livello istituzionale. Mi fa dire due parole? Allora, ritornando a prima, vorrei ricordare ancora una volta il Consiglio nazionale che si adesso ha deliberato sempre all'unanimità. Il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando di questo caso singolo. Allora, fin qui, devo dire la verità, Petrocelli ha sempre presieduto questa Commissione garantendo imparzialità e la possibilità a tutti i commissari della Commissione di poter esprimere. Addirittura mi è stato riferito da lui e dagli altri, lui non ha mai votato per consentire e assicurare imparzialità. Però attenzione, il primo passaggio, quando c'è stato il decreto e la fiducia ovviamente sul decreto ucraina. Ha votato contro. Allora, votare contro significa mettersi ovviamente contro. Attenzione, lì ancora ci poteva essere un passaggio che poteva far pensare, c'erano gli aiuti militari, una sorta di obiezione di coscienza. Quella roba lì è inaccettabile, è vergognosa. La nostra festa il 25 aprile, macchiarla con quella Z che significa ben qualcosa e lui lo dovrebbe sapere per prima, è inaccettabile. È fuori dal Movimento 5 Stelle. Ma la Presidenza del Senato non potevate mandarlo via prima di espellerlo? Non è possibile. Neanche se lo decide il Presidente dei Senatori? No, perché non è assolutamente previsto. È previsto dal regolamento che lui rimanga lì come Presidente. Però c'è un problema, Presidente. Però noi faremo con le altre forze politiche tutte le iniziative, anche quelle dirette e indirette, perché lui si dimetta da Presidente del Consiglio. Nel suo movimento qualche problemino c'è, perché al di là di Petrocelli, che è un caso estremo, allora, nel 2016 il sottosegretario agli esteri di Stemafano va al congresso di Russia Unita a Mosca e dice oggi in pochi, Russia Unita è il partito di Putin, oggi in pochi possono negare che a Kiev ci sia stato un golpe finalizzato a portare la Nato e confini con la Russia. Lorenzoni, che è vostro parlamentare, che dice tra la ragazza fotografata tra le orvie di un ospedale per la matertà a Mariupol, sembrerebbe essere una modella e una popolare blogger nella stessa città. Insomma, accreditando un fake, c'è un problema nel suo movimento? Queste persone qui possono stare nel movimento da lei presieduto, rappresentato? Guardi, quando ci sono dei fatti che rendono incompatibile l'iscrizione e l'appartenenza al Movimento 5 Stelle, siamo conseguenti. Come nel caso, le ho detto, dell'espulsione di Petrocelli. Per il resto, se lei va a prendere delle singole frasi, estrapolate anche del passato, guardi, noi... Lei non le condivide, immagino, queste... Ma adesso, guardi, sono scorse anche velocemente, francamente non le ho neppure lette. Insomma, che il governo di Kiev sia frutto nel 2016 di una sorta di colpo di Stato orchestrato dagli americani e dai nazisti? Ovviamente non le condivido, però voglio dire, la nostra linea è stata anche durante il governo molto chiara. Io vorrei ricordare che io da Presidente del Consiglio, anche nel Conte 1, io ho sempre, ogni sei mesi, rinnovato le sanzioni alla Russia. Va bene, mi è sufficiente. E le aggiungo anche un altro ricordo, perché tutto sia ben chiaro. Io quando l'allora ministro degli interni, nel Conte 1, non andò in Parlamento a chiarire l'affaire del... Sì. Che c'era stato il suo passaggio, lo scandalo del passaggio nell'albergo russo di Mosca, io sono andato in Parlamento a chiarire al suo posto. Senta, facciamo un... è come un quiz, mi devi dare 25 secondi per ogni risposta, 20 secondi. Ci proviamo? Tipo Mike, buongiorno. Non lo so. No, perché c'è un po' allungati. La prima cosa che voglio chiedere è che crede che l'Italia dovrebbe rinunciare al gas russo per evitare di finanziare la guerra di Putin? Guardi, io credo che l'Italia, da questo punto di vista, deve il prossimo maggio portare l'Energy Recovery Fund, il progetto farlo approvare da tutti e poi possiamo rinunciare al gas russo senz'altro. Perché a quel punto lì avremo acquisti comuni, stoccaggi comuni, massiccio investimento... Paio d'anni. No, lo possiamo fare. Guardi, gli acquisti comuni, un piano di acquisti comuni si può fare anche in pochi mesi. Bene, seconda domanda che le voglio fare. A chi lo accusa di aver regalato materiale genetico ai russi per lo sviluppo del vaccino anti-Covid quando arrivò la famosa missione durante la pandemia dalla Russia con amore? Poi sono tornati via con materiale genetico italiano con cui hanno sviluppato il vaccino. Non ho risposto io, hanno risposto le autorità sanitarie di Bergamo, ma che sta dicendo? Non avevamo neppure i tamponi, non avevamo neppure la possibilità di fare i tamponi. Ma queste cose qui dove sono state scritte? Bene, terza domanda e ultima è questa. Lei a otto e mezzo non si è voluto pronunciare prima del ballottaggio tra Macron e Le Pen dicendo che il Movimento 5 Stelle non è un partito francese. ha preso una raffica di critiche incredibili, diciamo. Sono abituato, sono abituato. Lo rifarebbe? Allora guardi, chiarisco in 20 secondi. Sì. Anche in quell'occasione, però ovviamente è stata manipolata e oscurata, ho dichiarato noi non abbiamo nulla a che fare con le politiche della Le Pen. Però è stato ambiguo, io l'ho sentita quella cosa. Mi hanno attribuito una simpatia alle Penista. No, non volersi schierare. Innanzitutto sarebbe cosa diversa, quindi mai nessuna simpatia alle Penista. Ho dichiarato anche allora nulla a che vedere con queste politiche di questa destra. Attenzione, per quanto riguarda Macron sarò più chiaro. Noi, la politica del Movimento 5 Stelle e gli obiettivi, i principi e i valori non sono perfettamente coincidenti con quelli di Ammarche, il partito macroniano. Noi per esempio siamo molto più audaci in materia di giustizia sociale, anche transizione argentina. Quindi rifarebbe la stessa risposta a Lili Gruber, la stessa. Non mi sono lasciato schiacciare in quell'alternativa. Però voglio anche aggiungere che quando ho fatto le congratulazioni... È più contento che abbia vinto Macron o no adesso che ha vinto? Evidentemente sì. Bene, mi basta questo. E le mie congratulazioni sono state sincere. Va bene, grazie Presidente Conte per essere stato con noi. Ci vediamo tra pochissimi minuti. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti